Lazio, grande tris. Il Genoa continua a scendere in attesa di Balotelli. Lazio domina e il Genoa continua a retrocedere. In una partita emozionante lo scorso fine settimana, la Lazio ha nuovamente dimostrato la sua forza, ottenendo una chiara vittoria per 3-0 contro il Genoa. L'incontro si è svolto nel leggendario stadio olimpico e la prestazione della squadra di Maurizio Sarri è stata una vera dichiarazione nella Serie A. In particolare, Zaccagni, che si è rivelato un giocatore decisivo, ha avuto un ruolo di spicco, contribuendo in modo significativo alla vittoria. Secondo le notizie sulla partita, la Lazio si è presentata dominante sin dal primo minuto. I giocatori hanno mostrato un alto livello di determinazione e un preciso gioco di passaggi, il che ha immediatamente attirato l'attenzione dei tifosi e degli esperti. Besonder Zaccagni, che già nella scorsa stagione aveva fornito prestazioni costantemente buone, è riuscito a mettersi nuovamente in luce. È stato constatato che la sua velocità e tecnica rappresentavano una minaccia costante per la difesa del Genoa. A differenza della Lazio, che si stabilizza nella parte alta della classifica, il Genoa ora sta prendendo una direzione differente. Da Steam ha recentemente perso molta costanza e si trova di fronte a seri problemi. Secondo i rapporti, l'allenatore è sotto pressione per riformare la squadra e riportare la stagione sui giusti binari. Le recenti sconfitte non hanno avuto un impatto positivo sulla fiducia dei giocatori, rendendo la situazione sempre più tesa. Mentre la Lazio si posiziona in una posizione promettente all'interno della Liga, il Genoa deve trovare urgentemente soluzioni per fermare una negativa tendenza al ribasso. Le prossime partite potrebbero essere decisive per la direzione futura di entrambe le squadre. Sarà interessante osservare se il Genoa, considerato il pericolo di retrocessione, riuscirà a riprendersi e quale ruolo potrebbe avere Balotelli in questo. In sintesi, si può affermare che la Lazio, con la sua prestazione convincente contro il Genoa, ha fatto ulteriori progressi in classifica, mentre le preoccupazioni sui volti dei tifosi del Genoa diventano sempre più profonde. Anita Fache, domenica 27 ottobre 2024